Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale è dedicata alla conferenza dei sindaci che si è svolta ieri a Catania per la prima volta dalla istituzione della città metropolitana. Presenti una cinquantina di rappresentanti istituzionali, invitati i sindaci di Gela, Piazza Armerina e Niscemi che attraverso il referendum popolare e altre due votazioni consigliarie hanno espresso la volontà di aderire alla città metropolitana di Catania. Così come l'Icodia e Ubea ha intenzione di aderire al libero consorzio di Ragusa. Sentiamo. Conferenza dei sindaci ieri a Catania per la prima volta dall'istituzione della città metropolitana. Una cinquantina di rappresentanti istituzionali presenti, tra cui l'assessore comunale di Gela, Francesco Salimitro. C'erano anche i componenti dei comitati di Gela, Piazza Armerina e Niscemi. Filippo Franzone La prima cosa di cui ha parlato Bianca è stata appunto la diffida ricevuta da questi comuni a non indire le elezioni nell'ente intermedio e ha detto che va rispettato il volere di queste popolazioni e che la città metropolitana attende queste comunità. Quindi ha detto all'intera conferenza che scriverà al presidente della regione, al presidente dell'assemblea affinché questi si adoperano a fare il passaggio al più presto di queste comunità. Il sindaco metropolitano ha comunicato di aver invitato alla seduta costitutiva i sindaci delle città di Gela, Piazza Armerina e Niscemi che attraverso il referendum popolare e altre due votazioni consigliari hanno espresso la volontà di aderire alla città metropolitana di Catania, così come Licodia e Obea ha intenzione di aderire al libero consorzio di Ragusa. Possiamo definirla come una vicenda vergognosa, una pagina brutta per la storia della Sicilia perché parliamo di rappresentazioni democratiche da parte di questi quattro comuni, ciascuno di loro ha fatto due delibere consigliari, sottoposto al referendum abbiamo fatto votare in Sicilia 32 mila elettori per questo passaggio di quattro comuni e poi la regione siciliana decide a un certo punto di mettere tutto in stand by e attendere e questo non è bello. Lo vediamo anche, abbiamo visto come la Gran Bretagna abbia deciso attraverso un referendum, un referendum consultivo, non confermativo come quello abbiamo fatto noi, di uscire dall'Unione Europea e già si stanno avviando le trattative per l'uscita della Gran Bretagna. In Sicilia purtroppo assomigliamo sempre più alle dittature africane o le ex dittature sudamericane piuttosto che assomigliare appunto ad una nazione europea. Dunque sostanzialmente Entro Bianco si farà portavoce dalle vostre stanze e nei tavoli istituzionali? Ma non solo Enzo Bianco, abbiamo sentito anche gli interventi di alcuni sindaci dell'area catenese, tra cui alcuni molto distanti da noi, parliamo di sindaci dell'area etnea e ionica, a difesa appunto di queste scelte, di questi comuni. Noi rappresentiamo per la città metropolitana una risorsa, per noi la città metropolitana rappresenta una risorsa, quindi è un guadagno reciproco per entrambe le comunità. Adesso ci occupiamo di quanto scoperto dalla polizia a Vittoria. Un uomo lasciato dalla moglie che aveva violentato faceva vivere tra escrementi e spazzatura i quattro figli. Al telefono si vantava di averli pestati. Sentiamo. Padre violento che vi chiave figli che hanno un'età compresa tra i quattro e i undici anni e che li faceva vivere tra sporcizia, spazzatura, escrementi, mobili distrutti, indumenti a terra, materassi sporchi senza lenzuola. L'uomo di cui non sono state rese note le generalità proprio per tutelare le vittime è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa e dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. L'episodio si è registrato nella cittadina Ipparina. Della violenza senza senso l'arrestato si vantava al telefono con la propria madre, la nonna dei bambini. Già in manette in un'altra circostanza per avere abusato della moglie era tornato in libertà, volto dunque conosciuto negli ambienti giudiziari. Avrebbe dovuto prendersi cura dei figli considerato il fatto che la moglie straniera era fuggita abbandonandoli. È stata una telefonata intercettata dagli inquirenti a scorciare il velo sulla triste vicenda. Proprio al telefono l'uomo si vantava di aver picchiato i propri figli. L'ho fatto volare in aria facendolo cadere faccia a terra, l'ho pestato talmente forte che ha pianto tutta la notte. Strazianti inoltre le altre telefonate intercettate dalla polizia. Al telefono erano i bambini a parlare con i nonni. Vieni a prendere, papà non si sveglia, non abbiamo mangiato tutto il giorno. E quando i poliziotti hanno fatto eruzione nella casa Lager hanno trovato una scena quasi surreale. Le immagini fornite dalla polizia lo testimoniano. Alla vista degli agenti l'uomo ha dato in escandescenze per la gravità dei fatti commessi e la delicatezza dell'intera vicenda. Con il coinvolgimento anche dei nonni che non hanno denunciato i fatti, anche se molte volte hanno assistito i piccoli, i minori sono stati fidati agli assistenti sociali del comune di Vittoria e trasferiti in una casa famiglia. Il padre padrone adesso è in carcere. La Guardia di Finanza di Caltanissette ha scoperto una società fantasma di import ed export di prodotti ittici dalla Tunisia che ha evaso il fisco per 4 milioni e mezzo di euro. La società faceva capo a due coniugi che non avrebbero mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, nonostante le consistenti operazioni di sdoganamento di prodotti ittici per diversi milioni di euro. I due amministratori si sono resi irreperibili in Italia gestendo tutto dalla Tunisia. Inoltre la sede legale coincideva con l'indirizzo dell'abitazione di un loro familiare. Le fiamme gialle hanno scoperto un volume d'affari levitato negli ultimi 4 anni grazie alla collaborazione con diversi uffici doganali italiani presse quali la società avrebbe espletato le formalità di sdoganamento. I finanzieri hanno acquisito copia delle relative bollette doganali. I militari sono risaliti così a due intermediari che si sono occupati dello stoccaggio, del trasporto e della consegna della merce importata, nonché dei nominativi di diversi clienti. Affermare che siamo alle solite risulterebbe un'affermazione vecchia, però purtroppo corrisponde alla verità. Il sindacato confederale per l'ennesima volta denuncia il danno che si arreca ai lavoratori che nessuna responsabilità hanno e potranno avere in merito alla gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, gestione con evidenti lacune, tanto che la città è sporca. Lo dice Ignazio Giudice, segretario generale della CGL. Non sono stati lavoratori a scrivere il bando di gara e il relativo capitolato d'appalto. Non sono stati lavoratori a scegliere servizi aggiuntivi. Non sono stati lavoratori a decidere la turnazione. Ne sono stati lavoratori a scegliere di dare la proroga del servizio alla Tecra. Fa tutto la politica e come fa dovrebbe pure risolvere i problemi generati da un modo di fare che di certo a qualche punto discutibile nel percorso in tanti hanno riscontrato e più volte fatto rilevare. Giudice sottolinea di aver incontrato il sindaco di Gela, Domenico Messinese, per informarlo del fatto che la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti deve ancora pagare lo stipendio di dicembre ai lavoratori. La stessa azienda campana, sottolinea Giudice, sostiene di non avere percepito soldi dal comune. Il primo cittadino, nella secondare le rivendicazioni del sindacato, ha detto che la Tecra complessivamente deve ricevere circa 6 milioni di euro così distribuiti, 4 milioni e mezzo dalla gestione Fasulo e la restante parte dall'attuale amministrazione e solo il Consiglio Comunale può trattare i debiti fuori bilancio. Ma in tutto questo, si chiede alla Cigelle, cosa centrano i lavoratori con le autonome scelte della politica? Ogni consigliere è libero di votare a favore o contro o astenersi ad ogni debito fuori bilancio e va rispettato, ma il problema resta politico e amministrativo. Il sindacato ha già informato il prefetto, rifidato legalmente alla Tecra e il comune, responsabile e insolido nel controllo dei diritti dei lavoratori. La Cigelle, continua Giudice, cerca soluzioni ad oggi distanti e le cerca in un settore nevralgico per l'importanza che il servizio riveste. Non è scaricando il problema che il problema si risolve. È gravissimo l'importo citato dal sindaco e grava tutto sulla testa e la vita di ogni singolo cittadino. Bambini appena nati, inclusi, che per l'ente comunale hanno già un debito da cittadini e lo hanno per centinaia di euro. Anzi, per essere precisi, continua Giudice e sinceri, un bambino che nasce a Gela ha già un debito di 80 euro per il solo servizio rifiuti e lo stesso bambino avrà i genitori che rischiano di vedere i pannolini non raccolti per giorni. Tutto così logico e tutto senza vedere soluzioni, perché chiude Giudice, chi sbaglia non paga mai. La Segreteria Provinciale della Funzione Pubblica della CGL di Caltanissetta in una nota sottolinea che da oggi è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati nella raccolta dei rifiuti solidi urbani a Gela alle dipendenze della Tecra, nonostante le numerose interlocuzioni intercorse con l'amministrazione comunale e la società che gestisce il servizio. Se i lavoratori ad oggi non hanno ricevuto gli emolumenti relativi al mese di maggio scorso e dagli incontri avuti con lo stesso comune, anche presso la prefettura di Caltanissetta, non si intravedono soluzioni a breve termine che consentirebbero a tutti i lavoratori di operare con il godimento dei propri diritti. Sarà Luigi Bobba, vice ministro per le politiche sociali, a presentare a Gela domani alle 11 la nuova legge di riforma del terzo settore che riordine il vasto mondo del no profit e dell'associazionismo. Una ex scuola abbandonata nella periferia di Gela, trasformata dai cittadini in una scuola di educazione alla convivenza democratica, conosciuta in tutta Italia come la prima casa del volontariato, ospiterà il seminario nazionale rivolto ai quadri del volontariato e del terzo settore. Il seminario è aperto a tutta la cittadinanza, sarà presentata la nuova legge di riforma a cui anche le associazioni di Gela tramite il Movi hanno partecipato alla stesura e si raccoglieranno i contributi di pensiero per i successivi decreti attuativi. I lavori saranno aperti da Gero, buongiorno, presidente della Casa del Volontariato, Salvatore Buccheri, responsabile del CESVOP, e Pino Valenti, portavoce del Forum. L'introduzione sarà a cura di Enzo Madonia, esperto di politiche sociali e risorse umane del Comitato regionale del Movi Sicilia, movimento di volontariato italiano. Il dibattito sarà moderato da Francesco Pira, sociologo e docente universitario, presso l'Università di Messina. Vasto incendio nelle prime ore del pomeriggio alla collina del Redentore, nella parte sottostante il santuario. Sembrerebbe che il rogo sia stato provocato a valle della via Borremanze e che con il forte vento si sia riversato lungo gran parte del terreno che circonda Monte San Giuliano. Ad intervenire sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, tre Canadair, due elicotteri, il corpo forestale, i carabinieri e la polizia. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme che neppure in un primo momento con l'intervento dei Canadair sembravano spegnersi. Nessun danno grave alle case o alle antenne vicine, mentre gran parte del terreno è quasi del tutto bruciato. Dopo qualche ora dell'incendio, la polizia, a causa del vento, ha fatto allontanare in via precauzionale dai loro appartamenti di via Firrio circa dieci persone, perché le fiamme erano non poco distanti dalle loro case. Numerosi danni alle campagne e agli alberi. C'è stato un vasto incendio, io adesso sono qui per verificare che tutto è sotto controllo. Grazie al pronto intervento da parte delle forze proposte, dal servizio ente incendio della forestale, ai Vigili del Fuoco, è stato possibile limitare i danni. Adesso i Canadair stanno completando il lavoro per garantire la messa in sicurezza e evitare che altri focolai possano partire nella nottata. Purtroppo, come sta succedendo in Sicilia in queste ultime settimane, queste situazioni legate agli incendi vanno assolutamente verificate e controllate. Questa è un'attività che verificheremo successivamente con chi è proposto in questo senso, ma io lancio sempre un appello ai miei concittadini di evitare qualunque occasione perché possano nascere degli incendi che, come si è visto anche in questo caso, possono avere risvolti drammatici. Anche oggi, per fortuna, è andata bene, ma non possiamo sempre contare sulla buona sorte. Proseguono gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Gela fino a giovedì 30 giugno ogni giorno nella Chiesa dei Cappuccini alle 7.30, 8.30 e 19, celebrazione eucaristica e alle 18, Santo Rosario Coroncina alla Madonna. Oggi alle 21, celebrazione penitenziale giubilare. Sarà presentato domani alle 9.15 presso il Museo archeologico regionale di Gela il nuovo servizio infoturist ideato e realizzato dalla Proloco Gela e dal gruppo archeologico Geloi in collaborazione con il Museo di Gela e la casa del volontariato nell'ambito delle attività cantiere Gela. Al banco informativo saranno presenti per dispensare informazioni utili ai visitatori che raggiungeranno Gela, gli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela. Verranno inoltre attivati laboratori collaterali dedicati all'innovazione nei beni culturali con la partecipazione degli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. Adesso parliamo della nuova piattaforma web del sistema informatico territoriale che permetterà di consultare l'intera cartografia digitale che interessa il territorio di Gela. Vediamo. Una piattaforma web del sit sistema informatico territoriale che permetterà di consultare l'intera cartografia digitale che interessa il territorio di Gela attraverso un semplice browser senza la necessità di installare software aggiuntivi. Il nuovo progetto è stato presentato ieri a Palazzo di Città. L'applicativo e la nuova procedura sono curati dallo staff del nodo CTR dei uffici del settore urbanistica del comune con la collaborazione dell'azienda specializzata in sistemi informativi territoriali, la Synergies di Trento. Un strumento informatico che ci consentirà di poter accedere molto più rapidamente ai dati del nostro territorio. Questo strumento, che si chiama SIT, è stato rimesso in moto perché in realtà la regione siciliana è già da più di sette anni e praticamente se aveva pensato di avviarlo ma era messo in un angolino. L'abbiamo preso, l'abbiamo rispolverato, l'abbiamo nuovamente attivato. Di fatto potrà servire non soltanto al comune per avere prontezza sul come si trova lo stato del territorio di Gela ma anche i libri professionisti che potranno accedervi sia in modo locale dagli uffici del comune ma anche tramite una piattaforma web direttamente e comodamente alla casa. Sì, è uno strumento complesso il sistema informativo territoriale ma è il cuore di ogni pubblica amministrazione che si avvia a organizzare e a programmare la propria attività in modo efficace ed efficiente, sicuramente. Quindi è rivolto ai cittadini, rivolto ai liberi professionisti, rivolto a quanti hanno interesse di andare a verificare tutto ciò che fa la pubblica amministrazione. Quindi è sicuramente uno strumento importante ma che è preliminare a tutta una serie di altre cose. Per esempio noi stiamo lavorando per inserire tutta una serie di informazioni esistenti in diversi enti pubblici e privati ma che la loro interessenza costituirà una base informativa importante per prendere decisioni basate sulla razionalità e non sulla inventiva del momento. Quindi è uno strumento sicuramente fondamentale, è uno strumento che già viene utilizzato nelle città più importanti d'Italia ed Europa e del mondo. È un sistema informativo territoriale. Perché territoriale? Perché ogni informazione è legata a un punto del territorio. Quindi c'è anche l'anagrafe per esempio, è inserita dentro come informazione, ci siamo tutti cittadini con nome e cognome all'interno, con indirizzi e quant'altro. Quindi noi potremmo fare programmazione tenendo conto delle esigenze effettive che i nostri concittadini hanno. Proseguono gli eventi culturali al Club Vela di Gela. Oggi alle 21 è previsto un incontro su ludopatie e dipendenze. Saranno presenti lo psichiatra Francesco Lauria, il sociologo Francesco Pira e la psicologa Rosaria Damaro. Modera e Vita Lorefici ad aprire lavori sarà il vicepresidente del Club Sergio Antonuccio. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Ci sarà anche la delegazione di Gela del piccolo coro Lollipop alla serata conclusiva del corso nazionale La Luna al Guinzaglio, che si terrà giovedì 30 giugno prossimo a Genova in piazza De Ferrari. La manifestazione è dedicata alle canzoni scritte dei bambini per i bambini. Il concorso prevede per la classe vincitrice un premio di 500 euro da investire in materiale didattico e una statua in ceramica rappresentante il bambino della Luna al Guinzaglio, realizzata dalla ceramista genovese Claudia Ferrando. Per il secondo e terzo posto, premio piccolo coro Lollipop, premio radio fra le note, è prevista una targa in ceramica. A Genova saranno presenti sei coristi gelesi insieme alla direttrice e cantautrice Antonella Serà. Lions Dance è pronta ad approdare a Rimini al campionato nazionale di ballo. Con quante coppie vi presenterete? Siete pronti? Diciamo che siamo pronti. Presenteremo sette coppie agli italiani, coppie che ballano da un bel po' di tempo. Tra l'altro c'è anche il maestro della Lion Dance, oltre a me il fratello Mirko, che parteciperà al campionato italiani. È una gara abbastanza difficile dove ci saranno moltissime coppie. In una categoria, la 1934-2, sono 163 coppie. E quindi un po' dura come gara, però penso che, e spero che andrà bene. Sarà sicuramente un'esperienza formativa per i vostri allievi? Sì, sì, perché già siamo reduci di campionati, campionati provinciali, regionali. Diciamo che già sono abituati a queste gare, a queste competizioni. Già questo qua è il settimo anno che andiamo consecutivo, quindi già siamo esperienti nel campo. Da sollevamento pesi alla danza, qui insomma avete un presidio che è sempre aperto a tutti i giovani. Un punto di riferimento anche del quartiere. Sì, sì, parliamo qua a Settefarine, stiamo aprendo questa palestra nuova che facciamo danza, sollevamento pesi e karate abbiamo quest'anno. Quindi insomma tre discipline per impegnare in maniera positiva il tempo di tutti i giovani del quartiere, e non solo. Sì, sì, effettivamente. Possono venire da tutte le parti, non è un problema. Noi li ospitiamo tutti tranquillamente. A quando un campionato di ballo nazionale a Gela? È da vedere questo, è un po' difficile ma da vedere. Se l'amministrazione comunale concede, noi lo facciamo. Sono state pubblicate al Comune di Gela le graduatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico. Lo ha reso noto l'assessore servizi sociali, Licia Abela. L'elenco è consultabile all'albopretorio sul sito internet del Comune di Gela oppure negli uffici del segretariato sociale. È in pagamento agli sportelli della banca Unicredit di Gela il contributo per il canone di locazione relativa al 2015. Lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali, Licia Abela. Le somme integrative attinte dal Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e alla sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare. Raccolta differenziata, una sana rivoluzione che parte dalle parrocchie trovando spazio nel cortile della chiesa di San Luca. Sono gli opifici di pace di Luigi Gattuso e Andrea Polizzi un progetto diventato realtà e che permetterà agli abitanti della zona e non solo di poter differenziare i loro rifiuti. Il primo centro di raccolta presentato e inaugurato nei locali della parrocchia durante un incontro al quale hanno preso parte numerosi professionisti del settore e non solo. La raccolta differenziata interessa la società, la società civile che è bene che partecipi attivamente. Le utenze opportunamente registrate sul sito www.pcdpace.it potranno conferire il loro materiale, la raccolta differenziata presso la parrocchia San Luca che è il primo centro di sperimentazione del progetto. Potranno conferire carta, cartone, plastica, alluminio e vetro e dopodiché il personale provvederà alla loro selezione. Avendo organizzato questo progetto in parrocchia riteniamo di aver dato ai cittadini la vasta possibilità di poter realizzare la raccolta differenziata. Nello stesso tempo quello di poter partecipare in maniera più operativa anche a tutte le altre problematiche sociali. Non ci dimentichiamo che questo progetto dà la possibilità alle parrocchie di avere un contributo da parte del comune pari al 15% delle economie realizzate per il minore conferimento in discarica e dà i parrocchi a possibilità di aiutare effettivamente tutte le situazioni di disagio sociale che ci possono essere. Non ultimo anche possibilità di intervenire per la manutenzione dei propri stabili che spesso contengono, specialmente i chiesandichi che è un notevole patrimonio culturale. Un invito quello che il parroco della chiesa a San Luca Alfonso Cammarata ha accolto ricordando il messaggio di Papa Bergoglio nell'enciclica Laudato Si prendendosi cura della terra come figli grati ed educati. Si tratta nel mettere in pratica quella che è la dottrina sociale della chiesa che il nostro Papa Francesco e cultivamente con la sua enciclica Laudato Si ha ingendivato tutti quanti non solo i credenti, i cristiani ma tutti gli uomini di buona volontà a prendersi cura dei Madre Terra. Appuntamento con la rassegna Teatro Sotto le Stelle all'antidoto di Gela venerdì 1 luglio alle 21.30 è prevista la rappresentazione Turbolense in galleria della compagnia teatrale Cesare Cannata. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia è prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che i servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che Canale 10 è dotato anche di un altro strumento cioè il televideo che è sempre aggiornato con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti.